La stagione concertistica del Teatro Manzoni, promossa da Fondazione Teatri di Pistoia col sostegno di Fondazione Carapit, si è chiusa con un concerto dell'Orchestra Leonore diretta da Daniele Giorgi insieme alla violoncellista inglese Nathalie Klein. L'appuntamento è stato dedicato al compianto presidente della Fondazione Carapit, Luca Iozzelli. Abbiamo dedicato come di consueto questa serata a Luca Iozzelli che dieci anni fa fu il fondatore di questo progetto. Mi sembra molto significativo che sia proprio questo il programma che ci vedrà debuttare sabato alla Sala Grande della Elbe Philharmonie di Hamburgo. E questo è un po' il coronamento di un sogno che Luca Iozzelli aveva, che era quello di costruire una realtà che sapesse dialogare in maniera molto serrata col territorio, che il territorio sentisse come propria, ma al tempo stesso che avesse uno slaggio internazionale. Colgo l'occasione per ribadire come ormai si sia definitivamente avviata, anche dal punto di vista della formalizzazione giuridica, la trasformazione dell'associazione teatrale pistoiese in Fondazione Teatri Pistoia. Quindi siamo a tutti gli effetti una fondazione di partecipazione che opera in assoluta continuità con la quarantennale storia dell'associazione, ma che ha quei connotati nuovi più idonei oggi come modalità operativa anche al percorso che immaginiamo di ulteriore crescita nello spettacolo del vivo. Per quanto riguarda la prossima stagione avremo molte sorprese in serbo per i nostri appassionati come sempre e più di sempre. Quello che posso anticipare sarà un'apertura davvero in grande stile, nel senso che in omaggio ai 200 anni della nona sinfonia di Beethoven apriremo la stagione con questo capolavoro affiancati da uno dei cori più prestigiosi di Germania, il coro filarmonico di Monaco di Baviera.